Mr. Mitiroz ha arrivato un pari per questo pesce, ha raggiunto nel finale da Giovanni Rossoneri, un buon punto oppure la risposta è evidente? No, assolutamente no, purtroppo credo che ci sia un po' di paura di vincere, quando siamo in vantaggio si arretra sempre quei 10 metri di troppo, a parte il gol avevamo concesso già un paio di situazioni dove ci si era salvati anche per fortuna e quindi diciamo che però ecco se la squadra poi riattacca da ultimo ha ricreato subito un'altra occasione del gol, quindi credo ci sia un pochino di paura di fare il risultato, purtroppo squadra completamente nuova c'è da aspettarselo poi sinceramente per la squadra che abbiamo noi il nostro campo un po' ci penalizza perché abbiamo giocatori che hanno bisogno di spazio, di corsa e qui spazi ce n'è pochi perché il campo è piccolino, sono tutte pallonate però bisogna adattarsi a questo e niente, peccato Un secondo tempo che insomma sta portando via un po' troppo punti al pesce in questo campionato Sì, e spesso e volentieri quando siamo in vantaggio, quindi significa che si ha troppa paura di vincere, si sente troppo la pressione, si sente troppo la voglia di fare risultato Purtroppo queste sono categorie che la partita finisce al 95esimo e ripeto, però insomma i ragazzi sono impegnati un po' so di niente alla squadra perché i ragazzi si dannano l'anima, però purtroppo in questo momento non ce ne va neanche una bene La ultima abbiamo avuto un'occasione clamorosa, una prima con Fiumicino ancora clamorosa Purtroppo si ha paura di fare risultato, bisogna sbloccarsi, avere magari anche la fortuna di fare un risultato positivo, totale e credo che ci si possa sbloccare Purtroppo i due o tre gol che si sono presi nei tempi di recupero ci hanno un pochino condizionato e anche probabilmente un po' frenato